Il convigno si apre con una prova per due anni, 10 concorrenti al via, 6 in prima fila, 4 in seconda. Un po' troppo ardente la Benedicta Gall con numero 6, un po' in difficoltà Pietro Carazza, cerca di aiutarlo lo starter. Aumentando il ritmo, alla chiusura delle ali, Beyoncé, la rottura di Beatrice Fesse, più di un agganciamento, la rottura di Bella di Venere. Seconda posizione Bertuccia e Getto, che si tiene larga per poter puntare in avanti sulla compagna di training. Quindi c'è 3 il lancio, Bertuccia sfila a condurre. Inità squalificata Benedetta Fesse, che ha sbagliato nel tentativo di filtrare dalla seconda fila. 31,2 il quarto iniziale, l'ardente Benedicta Gall va ai fianchi di Bertuccia Getto e la impegna. Le due seguite da Beyoncé con all'argo Belmarino. 46,2 sul piede dell'1,17 questi primi 600 metri. La Pineship affidata a Ghetano Di Nardo sta controllando a piacimento. Beyoncé ha tirato troppo e sta per esaurire lo slancio. In ogni caso è ai lati di Beyoncé. Parlavamo di Benedicta Gall a largo. Così comodo anche il passaggio al chilometro in 1,19. Tentativo in terza ruota di Belmarino. Bertuccia seguita da Beyoncé. Prende vantaggio. In terza posizione è il numero 7, Brigitte Lann. Tre quarti di miglia in 1,34 e mezzo. Beyoncé si affaccia su Bertuccia Getto. La va ad apparigliare. Le due compagne di training a contendersi il successo. Poi Brigitte Lann. Ingresso in retta. Bertuccia riprende. Leggero vantaggio. Beyoncé oramai cerca di accontentarsi della seconda moneta. Impegnata nei pressi del traguardo da Boletus. Che però non riesce a sopravvanzarla. Quindi 1,29. L'arrivo probabile ed ufficioso di questa prova d'apertura. Vince Bertuccia Getto. A media probabile di 1,16,8. Con 29,9 per il quarto conclusivo. La figlia di Painship è Friuli a Getto. I colori dell'allevamento toniatti. Sabato bevi l'acqua al training. Si apre così il convegno Aversan.